Il secolo è fatto all'umanità E' santo Ok Allora, ripeto, speriamo che mi sia piaciuto Splendido fanciullo Io mi sono te attivo E' il coraggio che mi serve Come potete farmi questo? Come potete? Rami nodosi Sono diventate le tue braccia sottili Sarei l'eternità a fare quello in cui sei più brava Sessere Un grosso intenso come sa Ti faccio, fuggiamo Domani sera, quando il sole sarà come tramontano Che costumi E' per l'articolo di trasformarmi in assino Questo è il famoso buco attraverso cui i due innamorati Sì, da bagliare Fammi da triste, la mia amante Sono giorni amari Ti sve Saluto Mirale di artificio Punizio per buon arciso Ripagato Maraviglioso Maraviglioso E la convinti a farmi assistere fuori in grantesimo della sua padrona Ma nessuno mai lo incontrava Come noi Come noi Non siamo in là dentro di te Ma promettimi Che io Non siamo in là dentro di te Grazie a tutti. La giuria, a parte la riprenda la giuria, ma ogni volta che poi in teatro, quando si sono riuniti, andavo dai vari componenti alla giuria che si sono poi riuniti, eccetera, e cercavo di corrompere perché voleva assolutamente che a vincere il premio con il migliore attore fosse lo scarrafuo. Giovanni, ma non ci è riuscito, però lui sappi che ci ha provato, ma davvero andava da tutti a fare sto fatto e è rimasta questa ricetta, lo dovremmo dire. Va bene, se devi dire qualcosa parli adesso o taccia per sé? Allora, devo dire solamente che anche noi dovevamo venire qui a Castel di Sangro per la prima volta nel 2020 e purtroppo è andato tutto a monte. Quest'anno finalmente ce l'abbiamo fatta a essere qui, nonostante in extremis, perché la professoressa con il mio vi ha contattato all'ultimo momento, perché in realtà i nostri ragazzi erano un po' titubanti. Ma lei aveva mandato la riscrizione? Sì, certo, però insomma fino all'ultimo momento eravamo un po' in dubbio. Ce l'abbiamo fatta a essere qui, siamo contentissimi, Giovanni merita i complimenti e con Francesco ce lo siamo detti quando eravamo su e Giovanni recitava, si sono impegnati tanto e lo meritavano. Soprattutto lui che aveva un lungo monopolo. Sì, sì. Grazie. E il tuo ci ha provato in tutti i modi, ci ha provato. Allora, e adesso passiamo agli utili quattro premi. Siamo arrivati al premio migliore opera scuola primaria. E' un musico comprensivo, ma in realtà è semplicitato con la primaria. Quindi, premio migliore. E uno magari, perché se vede lo spettacolo, ma già stanno queste scenografie. E invece c'erano e come le scenografie. C'erano e come. Con alcuni accorgimenti e con movimenti scienici, con il corpo umano, eccetera. Quindi, era un esempio. Mi stava dicendo alcune cose. E ora siamo arrivati al premio migliore. E ora siamo arrivati al premio migliore. E ora siamo arrivati al premio migliore. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti